Intanto abbiamo rispettato le regole e quindi pretendiamo che tutti rispettino le regole, soprattutto nel mondo del lavoro. Cosa che ultimamente, con la scusa della crisi economica, c'è stato un rallentamento di attenzione e di responsabilità. Noi invece abbiamo un'esigenza. Il lavoro è dignità, il lavoro è vita e quindi come tale il lavoro non può diventare sfruttamento, non può diventare sottomissione e non può diventare morte. Troppi sono i morti, troppi sono gli infortuni, ma soprattutto troppo poco è il lavoro. E allora dobbiamo fare tutti insieme un grandissimo sforzo, soprattutto nel momento in cui stiamo avendo una disponibilità di risorse finanziarie a disposizione che non vanno sprecate, che vanno portate a soluzione per dare migliori servizi alla comunità, più strade, più sicurezza idrogeologica, più sicurezza sulle scuole, sugli uffici e soprattutto portare lavoro, lavoro, lavoro.